La Sala Quingeri del Teatro Rennano di Cosenza ha fatto da scenario all'evento 60 e non li dimostra, organizzato dal convegno di cultura Maria Cristina di Savoia di Cosenza nei panni del presidente del convegno Angela Gatto e dell'assistente del convegno Don Mario Merenda. Evento ricordato attraverso immagini, parole e musiche del tempo e con la distribuzione delle confezioni di cartoline ricordo degli anni 60 che hanno come tema lo stile sulle tracce di Audrey Eborn, l'indimenticabile principessa di vacanze romane. Tutto raccontato da Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Nada, Luigi Tenco, con i giganti Lucio Battisti e con gli amici di sempre, Maria Assunta Salinetto e Roberto Pititto e i loro racconti, Francesco e Giusto Zappone con le loro chitarre e le splendide voci di Giussi Bartoletti e Domenico Tarsitano.